Il Comune di Alpago Partirei passando in rassegno un po' le opere pubbliche e le manutenzioni sul territorio che state portando avanti. Sì, le opere pubbliche e manutenzioni ce ne sono diverse, parecchie, che abbiamo in corso in questi giorni. Abbiamo, per esempio, proprio in questi giorni stiamo procedendo all'asfaltatura dei tratti di strada in località Paludi e anche in località Villa Torc, un'opera che era stata programmata già da tempo e che ha impegnato risorse per 300 mila euro circa. Inizialmente erano 200 mila euro, poi abbiamo rimpinguato durante l'anno queste somme e adesso siamo arrivati a 300 mila euro abbondanti che hanno consentito di rifare il manto stradale nella zona industriale Paludi, di accesso da Bastia verso Paludi e poi invece abbiamo fatto un tratto intero di strada che è dai campi sportivi di Paglie e di Pieve, porta fino all'abitato di Villa e poi anche a Torc, quindi abbiamo sistemato una strada che da diversi parecchi anni era in uno stato che non consentiva più una circolazione normale, insomma, adeguata e quindi questa è un'opera sicuramente importante e anche molto richiesta. Abbiamo, sempre per quanto riguarda gli asfalti, proceduto anche ad alcuni ripristini durante quest'anno, l'abbiamo fatto a Sperte, l'abbiamo fatto a Farra, l'abbiamo fatto in località Pianture, adesso faremo anche un pezzettino a Curago e Plois, però la cosa che volevo sottolineare qui questa sera è che abbiamo dei problemi seri con i ripristini che dovrebbe fare Open Fiber in seguito ai lavori di installazione della fibra. Purtroppo le dite che hanno lavorato hanno creato enormi disagi, hanno fatto disastri, proprio detta in termini chiari, hanno fatto disastri perché nel mettere giù questa fibra hanno spaccato tubi, hanno rovinato altri sottoservizi, hanno fatto disastri e di questi disastri qua ne scopriamo uno ogni giorno, oltre al fatto che dove ci sono i ripristini ovviamente l'asfalto cala e quindi bisogna adesso provvedere al ripristino definitivo che consenta anche lì di sistemare queste sedi stradali e che sembra di vivere in un paese che è bombardato perché ovviamente ci sono buche ovunque. Ecco, e poi ci sono anche i lavori magari per la difesa idrogeologica. Sì, abbiamo avuto un evento meteorologico importante che purtroppo ha avuto delle conseguenze inaspettate e la comunità di Alpago è ancora profondamente scossa per quello che è successo al concittadino Walter. Al netto però di questo possiamo dire che gli interventi che sono stati fatti negli ultimi anni dopo Vaia hanno consentito al territorio di tenere dal punto di vista idrogeologico perché non abbiamo avuto grosse difficoltà a parte qualche piccolo smottamento framoso che abbiamo segnalato sia nella strada che va verso Curago che anche sopra Buscole. Però l'azione del Comune del Pago non si ferma qui perché siamo risultati assegnatari di contributi per la difesa idrogeologica ne abbiamo ricevuti diversi, durante l'anno abbiamo ricevuto un contributo importante di 400 mila euro per la zona Trapiantura e Villaggio Riviera, poi adesso ultimamente abbiamo ricevuto dei contributi fino a 600 mila euro per la zona di Valzella e 250 mila euro per la strada di Biban che per chi non la conosce è quella stradina che dalla Viola porta verso Sitran e quindi anche lì l'attività del Comune di Alpago dal punto di vista della difesa idrogeologica visto che siamo uno dei territori più fragili in Veneto anzi forse anche il più fragile insieme ai cugini di Chiesso ovviamente abbiamo ovviamente intenzione di continuare a lavorare in questo senso. Ecco questo è uno di quegli argomenti che fanno parlare del rapporto tra uomo e natura non è l'unico argomento che avete in Alpago perché insomma è noto che avete una presenza abbastanza importante di lupi nel vostro territorio e come sindaci mi pare siate abbastanza preoccupati. Siamo preoccupati perché ci facciamo portavoce innanzitutto degli allevatori e poi adesso ci facciamo portavoce di tutti quanti i cittadini perché questa questione del lupo sta prendendo una piega che sta diventando insostenibile io ricevo messaggi di genitori che non vanno più a fare passeggiate nel bosco o non si fidano più a portare fuori magari andare a fare una passeggiata serale assieme al proprio cane perché ormai è un dato che è stato certificato il lupo è nelle case, gira attorno alle case, gira attorno alle case abbiamo dei video continui, era a Bastia, era a Tambre, era in Foran, a San Vigilio ultimamente ma anche in Paludi, insomma è ovunque e abbiamo fatto un incontro qualche settimana fa anche insieme alla polizia provinciale, insieme agli elevatori, insieme alle associazioni in Alpago abbiamo avuto il 90% delle predazioni di pecore quindi vuol dire che siamo un caso particolare e il lupo da noi ha trovato terreno fertile e quindi noi dobbiamo riuscire a risolvere questa situazione qui però il nostro grido fino adesso, al di là di uscire quotidianamente sulla stampa il nostro grido è rimasto fino ad ora inascoltato adesso faremo comunione montana nella seduta del prossimo consiglio un ordine del giorno dove diremo ai cittadini state attenti ad uscire faremo questo perché non abbiamo, siamo rimasti inascoltati fino adesso e non sappiamo che cosa dobbiamo fare, lo manderemo a tutti, lo manderemo agli altri comuni lo manderemo alla provincia, lo manderemo alla regione, lo manderemo all'ISPRA lo manderemo al ministero anche dell'ambiente cercheremo di fare tutto quello che possiamo fare però la situazione è drammatica C'è paura quindi diciamo? Assolutamente sì Anche per le persone? Assolutamente sì, in una scala di pericolosità del lupo siamo a 7 su 8 perché quando il lupo si avvicina alle case credo che la questione non possa essere tralasciata e deve essere presa seriamente Ecco, voltiamo pagina e però rimaniamo nell'ambito delle famiglie di quello che si può fare per le famiglie e di quello che si può fare in particolar modo per i ragazzi quindi tutta la sfera poi dell'istruzione, come vi state muovendo? Beh, è noto che il Comune del Pago sta investendo da diversi anni nel settore dell'istruzione sia attraverso la costruzione delle nuove scuole medie quei lavori stanno andando avanti, anzi sono quasi finiti infatti passando in macchina adesso sono state tolte anche le reti e si vedono proprio le nuove scuole medie che saranno pronte a breve ma ovviamente ritengo opportuno fare il trasferimento durante il periodo estivo quando i ragazzi non sono a scuola, quindi dall'anno prossimo i ragazzi entreranno nelle nuove scuole medie che sono veramente belle però non finisce qui perché l'impegno ovviamente c'è per garantire un'istruzione che sia al passo con i tempi e abbiamo visto che la mensa è una cosa importante l'ora della mensa è diventata praticamente un'ora di scuola mangiare bene è importante e da questo punto di vista abbiamo con il PNRR preso dei finanziamenti per la realizzazione della mensa che va a servire le scuole medie di cui ho appena parlato e poi abbiamo approvato un progetto esecutivo per partecipare ad un bando che finanzia fino a 700 mila Euro di intervento per la costruzione della mensa invece che verrà realizzata sopra la scuola materna di Farra e che servirà invece le scuole elementari con l'avvio della nuova scuola media e la costruzione della mensa per le scuole medie le scuole elementari di Puos verranno trasferite tutte a Farra quindi faremo, come abbiamo già detto tante volte il polo scolastico delle elementari a Farra e il polo scolastico delle medie a Puos Parliamo ora di volontariato delle associazioni che spingono per mantenere anche un certo livello di eventi e un certo livello anche di servizi nel territorio in aggiunto a quelli che già ci sono Il volontariato rappresenta una parte importantissima del territorio nostro e sappiamo che nel Pago ci sono più associazioni di volontariato che nel resto della provincia di Belluno e anche in Veneto questo era uno studio che era stato fatto qualche anno fa quindi rappresenta veramente una parte importante in queste settimane, in questi mesi si fa sempre più fatica a fare il volontario perché ovviamente attorno al volontariato non solo gira tanta solidarietà ma girano anche tante responsabilità faccio riferimento per esempio ad un servizio che a noi sta molto a cuore che è Eva Al Pago e che è un servizio di primo soccorso importantissimo che avvicina gli ospedali, l'aspetto socio-sanitario al territorio e so che il Presidente Yuri De Col si sta dando molto da fare per fare una campagna acquisti per avere nuove persone che si occupano di questo servizio per noi è fondamentale, stiamo dando tutto il supporto che possiamo dare capiamo le difficoltà però assieme ad Eva Al Pago e assieme anche alle tante altre associazioni il Comune di Al Pago è sempre al loro fianco e abbiamo stanziato circa 40 mila euro quest'anno che daremo alle varie associazioni per poterli far sì che continuino nella loro attività che è molto importante per noi Ecco, lei per inclinazione, per esperienza anche nel Gall ha sempre avuto una visione sulle opportunità europee è riuscito a portarle anche nel suo Comune? Sì, sono riuscito a portarle anche lì anche grazie al fatto che una consigliera del Comune di Al Pago che è Elisabetta Bortoluzzi, lavora da tanti anni a Bruxelles, ha lavorato prima in Commissione adesso lavora al Parlamento Europeo insomma tramite lei e anche tramite al centro Europe Direct abbiamo creato questa triade e stiamo portando avanti diverse iniziative innanzitutto siamo stati il primo Comune in provincia di Belluno ad attivare la rete Belka che è la rete dei consiglieri comunali che dialogano direttamente con le istituzioni europee ed è fatto apposta per avvicinare le istituzioni europee alla Commissione europea e poi abbiamo anche, siamo il primo Comune anche in provincia di Belluno che ha attivato la rete dell'apprendistato locale e questo consentirà ai nostri giovani di poter fare qualche settimana, qualche mese di apprendistato presso le istituzioni europee o presso le istituzioni pubbliche europee o anche presso le aziende europee che sono convenzionate che hanno rapporti con la Commissione europea quindi questa è un'opportunità in più per i nostri giovani oltre a questo, sempre parlando di Europa per quanto riguarda le progettualità che abbiamo intenzione di portare avanti nel 2024 c'è sicuramente quella di partecipare alla prossima call del progetto del programma Interreg che è quel programma che favorisce gli scambi trasfrontalieri Interreg Italia-Austria per la realizzazione della nuova sala museale a Pieve di Alpago che abbiamo presentato il 14 ottobre scorso e quindi siamo intenzionati ovviamente a partecipare alla prossima call stiamo facendo il progetto esecutivo per avere un quadro dettagliato degli interventi da fare e siamo stati in Austria abbiamo allacciato rapporti con il locale museo di Allain vicino a Salisburgo che sarà nostro partner Ecco, chiuderei con la pagina degli eventi proprio come i giornali gli eventi alla fine ci finiscono gli eventi ci finisce lo sport e voi avete un evento sportivo molto importante a maggio Il 2024 sarà un anno intensissimo dal punto di vista dello sport perché abbiamo la tappa del giro unica tappa in provincia di Belluno una delle tre tappe in Veneto quindi per noi è un risultato importante ci sarà la partenza dal lago come è stata fatta 8 anni fa nel 2016 e per noi è importante perché non solo dal punto di vista sportivo ovviamente perché accende i riflettori sulla nostra conca e sulla provincia di Belluno ma è importante perché quando arriva il giro si animano tutti quanti e quindi tutte quelle persone tutte quelle associazioni e la comunità si ritrova proprio attorno al giro e tutti quanti si danno da fare e secondo il nostro punto di vista si ritrova quello spirito di comunità che è stato così duramente colpito durante il Covid e quindi per noi è anche un'occasione di rivitalizzare tutto il tessuto sociale attraverso moltissimi eventi che saranno culturali che saranno musicali che saranno sportivi e che saranno anche culinari ovviamente perché siamo in Alpago e da questo punto di vista possiamo dire qualcosa l'altra cosa invece è che il 9 di è altrettanto importante per noi perché quest'anno siamo nell'anno della celebrazione del 150esimo anniversario del terremoto che ha sconvolto l'Alpago e Belluno anche nel 1873 e quindi abbiamo organizzato un convegno importantissimo il 29 di giugno data che ricordava proprio il terremoto e adesso il 9 di dicembre presso il Palazzo Municipale di Pieve inaugureremo la mostra con delle stampe con una ricostruzione storica e ci sarà anche una ricostruzione in formato 3D fatta dal nostro concittadino Ernesto Dassois che è il noto artista locale e che riproporrà appunto alcune immagini e ripercorrerà la storia di quel tragico evento del 29 di giugno del 1873 grazie mille per essere stato con noi grazie a voi e quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni grazie a tutti grazie a tutti